Musica Muore annegato in un lido a Margherita di Savoia a perdere la vita un bambino di 6 anni originario di Trinitapoli. Era impegnato in un campo estivo e stava facendo giochi in mare. Droga ad Altamura a Matera smantellata, una grossa piazza di spaccio tra la Puglia e la Basilicata. Sono 34 e in tutto le misure cautelari, 28 gli arresti. I medici in Puglia saranno assunti senza concorso, così il governatore Michele Emiliano per fronteggiare le difficoltà che la sanità sta attraversando. Intanto dai sindacati un esposto al prefetto di Bari, Antonella Bellomo, parlano di precaria e insostenibile condizione. Del Policlinico Nuovo appuntamento con informazione interregionale di Antenna Sud, ben ritrovati. Partiamo purtroppo con una tragedia. Iniziamo questa edizione con la cronaca da Margherita di Savoia dove muore annegato un bimbo di 6 anni. Stava facendo dei giochi in mare, era impegnato in un campo estivo a nulla. Sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 nonostante le lunghissime manovre di rianimazione cardiopolmonare oltre i tempi canonici. Sentiamo. Il 118 non è riuscito a salvare un bambino. Sì, purtroppo oggi è una giornata in cui il 118 vorrebbe che non si verificasse mai. Quando i soccorritori sono arrivati lo hanno trovato a riva. Un bambino di 6 anni è morto durante un campo scuola mentre giocava in mare con altri bambini. Era all'altezza della boa bianca. Il bagnino ha notato il suo volto pallido e ha fischiato più forte che potesse. È corso in mare e lo ha portato a riva. La spiaggia era gremita di gente, tra paura e prontezza di chi aveva chiaro cosa fare. Ripetute manovre di rianimazione e un massaggio cardiaco. Sul posto è intervenuto un equipaggio dell'elisoccorso. Gli operatori del 118 lo hanno anche intubato, ma nulla, tutto inutile. Siamo senza parole, il soccorso c'era, le attrezzature c'erano, il sistema dei soccorsi ha funzionato e il nostro bagnino è stato tra i primi ad intervenire. Ora è sotto shock. Lo ha dichiarato Andrea Cristiano, titolare del Lido Paradiso dei Giovani di Margherita di Savoia dove è morto il bambino di 6 anni, residente a Canossa di Puglia. Avevo girato di là del bambino e avevo notato che diceva un sacco di schiuma e di cibo. Sul posto nel primo pomeriggio è arrivata la scientifica, un pezzo di spiaggia segnato dal nastro bianco e rosso mentre i medici legali operavano in ambulanza per comprendere le cause del decesso del piccolo sul quale molto probabilmente sarà disposta l'autopsia nei prossimi giorni. Con le accuse a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio di droga tra Matera e Altamura in provincia di Bari 28 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. In totale le persone coinvolte sono 34. La quasi totalità della droga smerciata nel Materano proveniva dalla vicina città di Altamura e questo è uno degli elementi al centro dell'indagine. L'attività investigativa è iniziata seguendo alcuni tossicodipendenti materani. Oltre 100 militari con l'ausilio di unità cinofile hanno eseguito su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza 34 ordinanze di custodia di cui 28 arresti nei confronti di vari soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio illecito di sostanze stupefacenti. Stiamo parlando prevalentemente di cocaina ed eroina, quest'ultima venduta e purtroppo acquistata anche da giovani e giovanissimi nella città dei Sassi. Questo fenomeno così imponente, perché parliamo di un'attività stabile, come esistono i negozi che vendono generi alimentari e oramai esistono queste piazze, chiamiamoli negozi, in cui si vende abitualmente sostanze stupefacenti. C'è una domanda straordinaria di queste sostanze da parte di fasce giovanili e qui certamente ruolo importante, dirò una banalità, ma è così, delle famiglie, del controllo familiare ma anche, devo dire, di soggetti più adulti. Quindi certamente noi contrasteremo giorno per giorno, giorno dopo giorno, questo fenomeno ma se la richiesta di stupefacente continua a esserci in questa misura mi sembra difficile che verremo a capo del problema. A capo dell'associazione a delinquere, con sede operativa a Matera, il pugliese Antonio Francia che nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari ha continuato a gestire e coordinare le operazioni criminose. Sì, è così, evidentemente non è stata la misura idonea a contenerne in questo caso era un soggetto che aveva già dei precedenti per questi reati. L'inchiesta sul tono a pinna gialla adulterato che ha portato, lo ricordiamo, a 11 arresti è partita in realtà due anni fa dall'avvenenamento di una famiglia di pezzi di greco in Puglia. Sentiamo. Quando siamo arrivati al Perrino, il 118 ha allertato immediatamente quasi tutti i medici perché si sono resi conto che effettivamente era un codice rosso. Tutto è iniziato qui a Pezze di Greco, popolosa frazione di Fasano, in casa della famiglia Fanizzi. Marito, moglie e due bambini di 12 e 10 anni hanno rischiato la vita per una grave forma di avvelenamento. Sono stati i primi a consumare il tono a pinna gialla proveniente dalla partita spagnola di pesce decongelato e adulterato con nitrato e nitriti stoccato da un'azienda ittica di Biceglie, la Zupietro SRL. L'inchiesta, scattata dopo l'avvelenamento della famiglia Fanizzi e poi di altre persone tra Bitonto, Pescara e Teramo, ha portato martedì all'arresto di 11 persone, 5 in carcere e 6 ai domiciliari, ad opera dei carabinieri del NAS di Bari. Due anni fa, nel 2021, sono stato ad acquistare del tonno in una pescheria del posto, l'ho cotta alla piastra. Successivamente abbiamo mangiato un boccone per ciascuno e dei quattro che ha preso il danno maggiore, all'inizio è stato il più piccolo perché è andato subito al bagno. Nel giro di pochi minuti si sente male anche l'altro figlio e poi è lo stesso Danilo Fanizzi a collassare. La moglie chiama il 118. Avevo sia nel prelievo il sangue nero e sia le unghia erano diventate già di colorito nero, quindi hanno subito pensato che fosse stato un avvelenamento. Tutta la famiglia è stata così portata in ospedale in codice rosso e sia ai genitori che ai bambini è stato somministrato un antidoto, poi sono stati sottoposti tutti a lavanda gastrica e ricoverati. Siamo stati costretti a fare anche terapia psicologica perché i bambini si rifiutavano di mangiare qualsiasi tipo di pesce e anche alimenti che si avvicinavano al sapore del filetto di tonno. Il ritrovamento del cadavere di Bruno del Negro in un sacco a pelo a 350 km dalla sua casa ha destato sgomento nella città d'origine dell'uomo Trani in cui ha vissuto e lavorato per tantissimi anni. Le nostre telecamere hanno raccolto le voci di chi lo ha conosciuto. Un mondo di matte, qua non ce l'ha a pensare, se sono stati i figli come dicono, peggio anche ora. La macabra scoperta delle modalità attraverso le quali quattro congiunti di Bruno del Negro avrebbero nascosto il decesso dell'ottantunenne allo scopo di ricavarne un mero beneficio economico ha letteralmente sconvolto la comunità tranese. Del Negro non era più autosufficiente da qualche mese e i conoscenti della famiglia credevano che i suoi cari lo accudissero a turno. Le notizie giunte dall'Abruzzo si sono rapidamente diffuse suscitando profondo sgomento. Una cosa proprio allucinante diciamo, mai sentite una cosa del genere. Una generazione un po' particolare questa e adesso non si sa né l'educazione di una volta né il rispetto per i genitori, né il sistema più grande. L'uomo è stato identificato grazie all'attività dei carabinieri del nucleo investigativo dell'Aquila che hanno concentrato gli accertamenti su una protesi femorale. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire gli eventi che si sono succeduti in quei giorni partendo dall'abbandono del corpo dell'anziano nella notte fra il 26 e il 27 luglio 2022. La procura di Sulmona vi è anche un altro aspetto di rilevanza penale. La mancata segnalazione del decesso all'Inps e il fatto che i figli abbiano continuato a percepire e spendere per quasi un anno la pensione e i risparmi del padre. E li devono bruciare a tutti e quattro, anche la Black Bombay, li devono bruciare e basta. Il processo per l'omicidio di Michele Cilli, i legali di Dario Sarcina e Cosimo Damiano Boraccino annunciano il ricorso in appello dopo le condanne in primo grado. Per la difesa sussistono le straneità dei due imputati e gli elementi insufficienti raccolti durante le indagini. I legali di Dario Sarcina e Cosimo Damiano Boraccino ricorrono in appello. Non finisce con la sentenza di primo grado il processo per l'omicidio di Michele Cilli, il 24enne di Barletta scomparso nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2022. Il corpo del ragazzo non è mai stato ritrovato. La condanna per i due imputati è arrivata lo scorso 30 marzo. 18 anni e 8 mesi per Sarcina, accusato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. 5 anni e 8 mesi per Boraccino, su cui pende la sola soppressione di cadavere. Renato Borzone e Francesco Di Marzio, difensori del primo, e Nicola Mastropasqua e Ruggero Vitobello, legali del secondo, hanno scelto di ricorrere in appello al termine dei 90 giorni dalla sentenza emessa presso il Tribunale di Trani, dal GUP Ivan Barlafante. La battaglia legale era già stata annunciata dagli avvocati a conclusione dell'udienza, in attesa delle motivazioni arrivate poi nei giorni successivi. La difesa infatti resta convinta delle straneità degli imputati. Le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il percorso della Golf Nera incriminata, secondo i legali, non chiarirebbero l'effettiva presenza di cilli all'interno della vettura, così come il mancato ritrovamento del corpo viene inteso come un'assenza di prove. La tannica di benzina, riempita da borraccino inoltre, è ritenuta insufficiente per un'efficace soppressione di un cadavere. La famiglia del 24enne scomparso, che si è costituita parte civile, sarà rappresentata ancora dall'avvocato Michele Cocchiarole. E adesso in Basilicata per il nuovo questore a Potenza. È il dirigente generale il dottor Giuseppe Ferrari, il neo questore della provincia di Potenza. Nominato dal capo della polizia, il dottor Ferrari subentra il dottor Antonino Pietro Romeo, collocato in quiescenza dal primo giugno scorso. 59 anni, coniugato originario di Busseto, laureato in giurisprudenza con l'Ode all'Università di Parma, Ferrari arriva da Reggio Emilia dove ha ricoperto l'analogo prestigioso incarico. Inizierò in questi giorni i primi contatti con le altre autorità, con gli altri rappresentanti delle istituzioni e poi da lì delineeremo degli indirizzi appunto per affrontare e risolvere le problematiche eventualmente presenti sul territorio. Quando riguarda l'organico, pensa che a livello numerico di forze siano sufficienti per quello che cunga in mente per il suo lavoro? Beh, appunto, anche questo è correlato alla conclusione di questa prima fase durante la quale mi renderò conto di quelli che sono i problemi. Una volta che avrò compreso quelle che sono appunto le esigenze, sarò anche in grado di valutare se l'organico attualmente a disposizione è adeguato o meno per risolvere i problemi. In prospettiva della stagione estiva, quali saranno le attività standard che la polizia metterà in campo nella provincia? Beh, la polizia ha sempre ovunque una mission che è quella della prossimità, cioè l'essere tra la gente, essere in stretto contatto con la comunità. È chiaro quindi che andando incontro alla stagione estiva sicuramente aumenteranno gli eventi in provincia e allora ecco che dovremo cercare di essere, soprattutto in queste occasioni, il più possibili vicini alla gente ed eventualmente ai problemi che le persone ci rappresenteranno. Missione Italia è l'appuntamento annuale organizzato dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, per parlare del PNRR nei comuni e nelle città e per fare il punto sullo stato degli investimenti e sulle riforme. Inizio nelle scorse ore al centro congressi la nuvola a Roma. Il PNRR è una missione per l'Italia, gli investimenti e le risorse da sfruttare per il territorio nazionale, puntando sulla cultura e l'innovazione. Da quando è iniziata l'avventura del PNRR è iniziata la statistica che i comuni spendono il 25% delle risorse per le opere pubbliche nel nostro paese. Comuni che stanno facendo la loro parte, dice il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro. I risultati sono incredibili, 36 miliardi di euro su 40, quindi il 91% sono le risorse già assegnate. Abbiamo fatto 52 mila gare, quindi abbiamo già impegnato la spesa per oltre il 60% delle risorse a noi destinate. Quindi stiamo facendo il nostro lavoro per opere che ci aiuteranno, gli asili nido, la mobilità ciclistica, gli autobus elettrici, la rigenerazione di quartieri periferici con la realizzazione di attrezzature sportive all'aperto. Il tema del lavoro è centrale nell'attuazione del PNRR. Al 31 maggio, sottolinea la ministra, si è registrato oltre 1.239.000 persone prese in carico per i servizi del lavoro. Tra questi il 18% è stato avviato a un percorso di reinserimento lavorativo. Il 24,6% ha percorsi di incremento delle competenze. Il 48,6% ha un percorso di riqualificazione delle competenze del lavoro. è l'8,8% in un percorso di lavoro dell'inclusione. Abbiamo una stagione importante davanti con il supporto per la formazione e per il lavoro, l'assegno di inclusione. Tutto questo si interseca con quelle che sono poi le misure in gestione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul piano nazionale di riprese e resilienza. C'è poi il settore dell'agroalimentare fondamentale per il Paese. Per crescere bisogna, dice il titolare del Dicastero di Via 20 Settembre, investire sulle nostre imprese, sulle nostre potenzialità, far crescere la ricchezza e redistribuirla. Nel settore agroalimentare è evidente che di potenzialità ne abbiamo tante. Diciamo che noi vogliamo farlo dietere ancora più fondamentale, ma già lo è ovviamente nei fatti. Risanamento delle reti idriche e in arrivo importanti interventi di Acquadotto Pugliese nel Foggiano. Sostituzione delle vecchie tubature e significativa riduzione delle perdite idriche. A margine dell'emergenza vissuta dal capologo Dauno nelle scorse settimane, questo è il nuovo obiettivo che Acquadotto Pugliese si prefigge per la città e provincia di Foggia. Con le commesse di risanamento reti 4, fa sapere l'azienda, si realizzeranno interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio nelle reti idriche del territorio, con la sostituzione delle vecchie tubature. È un importantissimo intervento di rifunzionalizzazione della rete idrica, quello voluto da Acquadotto Pugliese, che così interviene e spiega la consigliera d'amministrazione di Acquadotto Pugliese, a sostegno delle comunità e dei territori, per migliorarne la qualità della vita. Il risanamento delle reti idriche risulta essere un intervento fondamentale per la provincia di Foggia, una realtà che necessita di interventi volti proprio alla riduzione delle perdite idriche, che è un obiettivo importante anche richiesto dalla Riera. Quindi numerosi sono i soldi che stiamo spendendo attraverso investimenti importanti nella nostra provincia. e questo ovviamente mi rende particolarmente orgogliosa, visto che da diversi anni ci necessitava di questa attenzione da parte di Acquadotto sul nostro territorio. Parliamo della sanità in Puglia, con il nuovo sopralluogo al Sclepios del Policlinico di Bari, da parte del governatore della Regione, Michele Emiliano. I reparti sono già in funzione, guardiamo. E' da poco entrato in funzione a Sclepios 3 al Policlinico di Bari. Attivati ambulatori e reparti, un segnale importante in ambito sanitario tanto a livello cittadino quanto regionale, dopo i cantieri e di sopralluoghi di mesi e anni passati che prevedevano tra le varie 200 posti letto per chirurgie cardiovascolari e toraciche, il progetto è realtà. Tutta la parte legata all'ospitalità dei pazienti, tutta la parte ambulatoriale è totalmente disponibile e adesso via via la abiteremo. Il progetto è un progetto impegnativo, un progetto complesso che ha garantito a questo Policlinico la possibilità di avere un padiglione ad altissima tecnologia e che soprattutto per gli anni a venire garantirà quello che tutti noi ci aspettiamo dal Policlinico, l'alta specializzazione in alcune discipline che oggi oggettivamente trovano una collocazione ideale. Visita nel capoluogo pugliese anche del governatore regionale Michele Emiliano che inoltre aggiunge. A Sclepio Stere è stato totalmente attrezzato riutilizzando i materiali che erano stati acquistati per la struttura di emergenza in Fiera. Questo ovviamente era previsto perché fu sospesa la gara di acquisizione dei materiali qui ad Asclepio se fu deciso già anni fa di utilizzare i materiali che erano presenti presso la Fiera di Levante. Questo non vuol dire che io abbia mollato sulla struttura delle grandi emergenze che secondo il mio giudizio è sempre e comunque necessaria e che quindi io mi auguro di riuscire a convincere tutti coloro che non sono ancora convinti che una struttura di grandi emergenze come quella della Fiera è necessaria. E a margine di questo incontro il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano ha rilasciato delle importanti dichiarazioni e ha detto che i medici in Puglia saranno assunti senza concorso questo per fronteggiare le difficoltà che la sanità sta attraversando relativamente alla carenza di medici, di personale. Intanto e di queste ultime ore l'esposto da parte dei sindacati di categoria al prefetto di Bari, Antonella Bellomo parlano di precaria e insostenibile condizione del Policlinico di Bari. E' dunque difficile la situazione sanità in Puglia. Continuiamo con le notizie da tutto il territorio. Andiamo adesso a Brindisi per la conferenza dedicata e concentrata all'opposizione al progetto Edison. Abbiamo una delibera improvvisamente assunta con urgenza il 28 giugno prima addirittura della proclamazione dei consiglieri comunali che è venuta il 29 per cui si decide di non riassumere il giudizio dinanzi al tribunale competente che è il Tarlazio. Opposizioni sul piede di guerra a Brindisi dopo la rinuncia della nuova amministrazione comunale guidata da Pino Marchionna ad effettuare il ricorso al Tar del Lazio per l'installazione del deposito GNL gas naturale liquefatto di Edison nel porto di Brindisi. L'avvocato Roberto Fusco che aveva sfidato Marchionna nelle ultime consultazioni invita sindaco in maggioranza a ripensarci e bloccare l'iter di realizzazione dell'insediamento. Qui si tratta di amministrare una città e una città importante come la città di Brindisi con impianti rilevanti e stiamo parlando di impianti a rischio di incidente rilevante cioè che mettono a rischio l'intera popolazione della città di Brindisi. Di questo si discute in questo giudizio. E tu, su un giudizio di questo genere senza alcuna motivazione decidi di non proseguirlo. Insomma, su questo noi insorgiamo e evidenziamo anche al sindaco che il termine per la riassunzione al di là di quello che è indicato in ordinanza che è 30 giorni potrebbe e dovrebbe essere di 15 giorni trattandosi di opera strategica nel piano nazionale quindi con riduzione dei termini. Quindi quel termine scade lunedì. Da qui l'urgenza di questa conferenza stampa perché nessuno poi possa dire ah, c'era scaduto il termine noi non lo sapevamo, non abbiamo. Comunali 2024 il civico Michele Boccardi smentisce ogni interessamento alla fascia tricolore di Antonio De Caro. Il centrosinistra attende il primo vertice di coalizione del fine settimana mentre il centrodestra tiene le carte coperte con l'incognita dei terzi mandati. Ha detto che voi avete visto a Roma c'è un dibattito importante a Roma sia al Senato che alla Camera sulla riforma quindi non conosciamo ancora le regole del gioco ci sarà il terzo mandato non ci sarà ci saranno le province non ci saranno quindi stiamo parlando di una cosa che oggettivamente non è al vaglio oggi nostro. Il progetto però è mettere in campo un'azione che possa portare Bari a proseguire. Ha riassunto così Michele Boccardi la marcia di avvicinamento alle comunali di Bari 2024 tutt'altro che un'operazione destinata a portare l'ex azzurro in fascia tricolore ma ugualmente un blocco in grado di pesare a tempo debito a partire dal capoluogo appunto non a caso in prima linea all'evento c'erano tanto Domenico De Santis quanto Marco Lacarra deputato e in lizza tra i papabili il centrosinistra attende il vertice del fine settimana sarà quello il primo momento nel quale capire plasticamente chi ci sta e chi no ci saranno le associazioni come la giusta causa sinistra italiana ma non i pentastellati che vorrebbero un ventaglio di battaglie comuni da poter affrontare insieme nel finale di mandato l'elefante nella stanza si intende sono i terzi mandati e le battaglie romane Fratelli d'Italia e Dem non vogliono sentirli nominare ma non tutti sono d'accordo a partire da Antonio De Caro e Michele Emiliano appunto e potrebbero rispuntare in un accordo quadro che tenga dentro anche il ritorno delle province entro luglio le sorti del dossier saranno più chiare confidano nel frattempo anche il centrodestra preferisce tenere le carte coperte andiamo invece adesso a Lecce con il Duomo a rischio crollo abbiamo raccolto le voci dei turisti è azzardato dire il Duomo sta crollando è azzardato dire il Duomo sta crollando la pietra leccese è una pietra molto delicata va sempre manutenuta sono sicuro che il nostro vescovo interverrà con prontezza parliamo quindi di piccoli crolli della facciata della cattedrale ma questi non sono i primi episodi simili registrati in città anche a febbraio infatti a perdere pezzi era stato il campanile di piazza Duomo messo in sicurezza in tempi strettissimi proprio per permettere la riapertura delle visite in alto con ascensore come potete vedere ci sono alcuni elementi lapide che sono in fase di stacco occorre immediatamente rimuovere le parti in distacco della facciata del Duomo per mettere in sicurezza poi ovviamente bisognerà fare un progetto più rilevante per manutenere l'intera facciata che è un progetto che sarà soggetto all'autorizzazione della sovrintendenza quindi prima mettere in sicurezza e poi fare un progetto di più largo respiro mettere in sicurezza vuol dire inibire l'accesso a quest'area ma soltanto una parte di piazza Duomo ne specifichiamo la parte è già quella che è stata delimitata proprio per salvaguardare l'incolumità sia pubblica sia privata verrà fatta penso a breve un'ordinanza da parte del sindaco per inibire quest'area che è stata già comunque recintata è un danno che potrebbe deteriorarsi nel tempo peggiorare? bisogna intervenire subito perché più passa il tempo ovviamente più si deteriorerà la facciata e quindi bisognerà intervenire con costi sicuramente più rilevanti a pochi metri da piazza Santo Ronzo come vedete cantieri alla mia destra e cantiere alla mia sinistra il centro storico sembra proprio incastrato in continui lavori un'unica battuta un peccato piazza Santo Ronzo è un cantiere adesso anche piazza Duomo un cantiere la stazione di Lecce è un cantiere Lecce è un grande cantiere i cantieri vanno bene forse non era il periodo più indicato andiamo a Taranto per parlare dell'ex discarica Vergine il territorio dice no all'apertura tracciando una strategia condivisa istituzioni e associazioni si ritrovano a Grottaglie città diventata il simbolo di questa battaglia ambientale torna la paura di una discarica sul territorio ionico dopo la lunga battaglia finita anche sui tavoli della giustizia italiana contro l'ampliamento della discarica in località la torre caprarica a Grottaglie ora la minaccia cade sull'ex discarica Vergine di fatto nell'isola amministrativa di Taranto sembra essere tornati indietro di diversi anni e si decide di parlarne per far fronte comune nella città a Grottaglie divenuta simbolo di quella lotta è il caso di dire che torna di moda Taranto come luogo di grandi diciamo pesi ambientali qualcuno continua a decidere sulla spalla dei cittadini noi continuiamo a dire che Taranto ha già dato la provincia ha già dato istituzioni e associazioni al lavoro l'obiettivo è mettere nero su bianco un secco no riuscire in qualche modo ad interferire con questa richiesta che porterà ad un'eventuale riapertura della discarica un'aggressione al territorio da contrastare assolutamente dicono all'unisono mi tornano in mente appunto tutti quegli anni di battaglie di riunioni di presidi continui cercare di capire come contrastare questa ennesima aggressione al territorio una strategia comune quella da definire e attuare se volete dice Adalò facciamo tesoro di quello che è stato il nostro percorso grazie anche a professionisti in materia ambientale e legale ai quali ci siamo affidati per quanto riguarda la discarica di Grottalia c'è una sentenza di condanna con delle pene molto molto pesanti nei confronti degli imputati Adalò garantisce il massimo impegno anche attraverso il consigliere provinciale grottagliese Aurelio Marangella intanto il territorio tarantino è di fronte ancora una volta a corsi e ricorsi storici Adesso torniamo a Bari notevole accumulo di rifiuti e non curanza nelle strade del quartiere San Paolo rifiuti e oggetti abbandonati non mancano le segnalazioni da parte dei cittadini All'orizzonte si può scorgere anche solo in parte il mare ma il resto è purtroppo una montagna di rifiuti e presenta uno spettacolo molto poco edificante siamo a Bari quartiere San Paolo in alcune delle strade di una delle zone popolari della città preoccupa la vistosa quantità degli stessi per strada in campagna ma anche in quegli angoli dove normalmente passano auto e cittadini partiamo da via Olbia una zona in aperta campagna ma dove è possibile notare un primo spiacevole accumulo un mix tra inciviltà ed anche non curanza non di rado capita di trovare chi porta il proprio amico a quattro zampe in giro per una passeggiata spensierata dovendo tuttavia imbattersi con una realtà spiacevole altri esempi vengono da via Candura via Ciusa Mazzoni ed altri ancora accumuli vistosi a distanza di pochi metri fin anche all'entrata dei condomini rifiuti ma anche oggetti di varia natura abbandonati una situazione per cui si auspica un celere intervento delle autorità competenti e qualcuno come da scritta sul cassonetto che vi mostriamo che indica per l'appunto sporcizia mostra segni di evidente insofferenza breve pausa ora torniamo tra poco restate con noi bentornati con informazione interregionale di Antenna Sud ripartiamo dalla Puglia con Foggia dove i sindacati scendono in protesta contro la decisione delle ASL di depotenziare il laboratorio di analisi ascoltiamo la voce dei manifestanti ma c'è anche la replica del direttore generale questo è l'inizio di una delocalizzazione massiva che queste persone vogliono fare noi non lo possiamo accettare oggi si è sposta al laboratorio domani si è sposta un'altra cosa e la scusa di aver spostato il laboratorio senza nessun tipo di problema può servire per il resto un secco no alla decisione dell'amministrazione dell'ASL di Foggia di declassare il laboratorio di analisi del presidio di piazza libertà semplice punto di effettuazione raccolta prelievi a prendere posizione dando vita ad una protesta che si è svolta nelle scorse ore proprio davanti al presidio dell'ex Inam i sindacati CUB e FIALS queste le ragioni della manifestazione che non stiamo parlando di un paesino stiamo parlando di un capoluogo di provincia una città enorme come Foggia che è un motore propulsivo per il sud Italia non lo possiamo permettere è una cosa sulla quale la regione deve fare marci indietro perché continueremo con la protesta fino a che non otterremo questo con tutti i danni che si possono seguire tra il trasporto provette di sangue che vengono inalterate secondo noi stanno facendo un grande sbaglio non solo il direttore generale ma anche la regione Puglia con questa riorganizzazione dei laboratori che hanno fatto in tutta la provincia di Foggia nessuna chiusura del laboratorio e nessun disagio per i cittadini è la replica chiara del direttore generale dell'ASL Antonio Nigri il laboratorio analisi di Palazzo Exinam di Foggia non si tocca rimane dov'è che significa che i prelievi dei 70 65-70 cittadini foggiani che lì giornalmente fanno i prelievi rimane confermato 5 giorni a settimana il processo di questi campioni biologici urine piuttosto che ematici si fanno e si continuano a fare presso i laboratori di Foggia e questa è una certezza mai nessuno ha parlato di mandare i campioni di Foggia a Cerignola né tantomeno di chiudere per aprire il tema è riqualificazione e rimodernizzazione complessiva perché per Foggia il tema è qualificare Foggia sapendo che a Foggia città il numero 1 è il laboratorio analisi del Policlinico di Foggia L'ospedale di Casarano non subirà alcuna sospensione delle attività lo sostengono i consiglieri di opposizione in un braccio di ferro con il sindaco Situazione sotto controllo a Casarano in merito alla paventata sospensione delle parti di ortopedia e chirurgia del Ferrari lo confermano a gran voce i consiglieri di minoranza dopo aver interpellato l'assessore regionale alla sanità roccopalese Abbiamo atteso la giunta regionale di lunedì per comunicare ai cittadini l'evoluzione e la modifica del piano di riordino che ha previsto 38 nuovi posti letto per l'ospedale di Casarano nonché si stanno attivando per risolvere le urgenze per quanto concerne il reparto di ortopedia con due nuovi medici che affiancheranno nella tornazione il dottor Rollo e con il reparto di chirurgia che vedrà a breve la nomina del nuovo primario C'è da dire che questo non è assolutamente per noi un punto di arrivo tutt'altro è dal primo giorno dell'insediamento dell'assessore Valese che cerchiamo insieme ai colleghi di instaurare un rapporto un filo diretto facendo anche da sprone per porre massima attenzione per l'ospedale di Casarano Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Denuzzo che invece pare aver ricevuto notizie di tutt'altra natura definire inutile allarmismo alla preoccupazione di una comunità vuol dire non avere contezza e coscienza della realtà dice Denuzzo da un anno è stato bandito il concorso per primario del reparto di ortopedia ed ancora non è stata nominata neanche la commissione giudicatrice e si propugnano soluzioni temporanee mentre l'intero ospedale necessita di urgenti nuove unità di personale per garantire i servizi sanitari avete parlato di allarmismo procurato dal sindaco il sindaco fa la sua parte cerca di in un certo senso creare allarmismi perché forse volge troppo l'attenzione sull'aspetto politico è inutile creare allarmismi ma bisogna fare fronte comune per la battaglia che ci vede tutti uniti per riportare Casarano dove merita sviluppare innovazione e ricerca nasce così il progetto Puglia Digital House nato dalla sinergia tra regione e gruppo editoriale City News scopo stimolare competitività e imprenditorialità del territorio City News al fianco della regione Puglia nel segno di innovazione di cerca e cambiamento nasce così Puglia Digital House progetto che prevede la collaborazione in due fasi distinte nella prima spazio un piano chiaro di comunicazione al fine di dare voce a un metodo che determina un cambiamento nel modo di fare o pensare il secondo l'organizzazione di eventi che esplodino le competenze digitali pugliesi da ulteriori punti di vista come imprenditoria e formazione l'innovazione e la tecnologia consentono di poter realizzare un'idea innovativa in qualsiasi punto della regione quest'area in questo momento anche grazie la presenza dell'ITS e dell'Università di Foggia stanno crescendo moltissimo vogliamo provare a confrontarci anche sulle sfide del futuro quella di intelligenza artificiale confrontarci con big player internazionali per capire anche quale traiettoria prendere e come coinvolgere le piccole e medie imprese del nostro territorio Puglia Digital House sarà presentato il 12 luglio prossimo a Foggia una scelta non casuale sono contentissimo che l'evento principale l'evento di punta si terrà a Foggia perché in questo modo la regione e City News il gruppo editoriale dei nostri quotidiani Foggia e Bari accendono un riflettore sul tema dello sviluppo delle politiche dello sviluppo delle imprese sulla città di Foggia su un territorio che è quello della Capitanata un territorio complesso un territorio difficile anche da un punto di vista orografico ma se vogliamo un territorio ricco di risorse diciamo inespresso ragion per cui io questo appuntamento Puglia Digital House questo progetto lo vedo più che altro come un segnale un segnale per dire cosa per dire che non dobbiamo arrenderci venerdì prossimo Martina Franca la prima edizione del premio Euromed International organizzato dal Gran Priorato di Puglia del sovrano ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavaliere di Malta un riconoscimento per le personalità che si sono distinte per il loro impegno in un'accezione quanto mai ampia a favore del dialogo tra i paesi del Mediterraneo rappresentando così anche un esempio per le nuove generazioni di quei valori morali di etica e di pensiero fondamentali per lo sviluppo di una società più equa e più giusta con questa finalità il Gran Priorato di Puglia del sovrano ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavaliere di Malta organizza in collaborazione con Base24 la prima edizione del premio Euromed International la cerimonia di premiazione si terrà nella splendida cornice di Palazzo Ducale di Martina Franca venerdì prossimo alle ore 18.30 l'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Martina Franca dell'Ordine di Malta dell'Osservatorio Mondiale Salute e Alimentazione a Palazzo Ducale la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa questo premio Euromed International 2023 G. Malta nasce per riconoscere a chi negli ultimi 24 mesi si è distinto per un lavoro sia professionale sia imprenditoriale sia anche organizzativo nell'ambito dell'area euro-mediterranea quindi questo premio servirà sostanzialmente a dare forma a un progetto che è l'osservatorio Euromed quindi un osservatorio che guarda i paesi dell'euro-mediterraneo per creare un ponte di interazione tra popoli e imprese che possano dare sviluppo all'interno di quest'area Sarà l'evento più importante tra quelli pugliesi per questa estate 2023 la mostra del Caravaggio in programma a Mesagne è stata presentata a Roma dalla Regione e i corrispondenti della stampa estera La mostra del Caravaggio a Mesagne è il biglietto da visita dell'estate pugliese l'evento in programma nel Castello Normanno Svevo dal 16 luglio all'8 dicembre è stato scelto dalla Regione per essere presentato nell'annuale incontro a Roma con i corrispondenti delle più importanti testate estere e soprattutto dei sindaci bravi come Doni Matarrelli l'evento che oggi viene presentato è un evento che attirerà i riflettori e l'interesse di tutta l'Italia e devo dire anche del resto del mondo su Mesagne che è una città importantissima A Puglia e Way of Life hanno illustrato l'evento il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli e l'organizzatore della mostra Pierangelo Argentieri Il fatto che la Regione Puglia consideri le nostre iniziative è in particolar modo la mostra di Caravaggio uno degli eventi più importanti che si terranno nella Regione Puglia è un motivo di orgoglio e di prestigio evidentemente ma ci riempie anche di responsabilità perché abbiamo il dovere di dimostrare di essere all'altezza di questa attenzione e quindi dobbiamo fare un lavoro capillare affinché tutto sia organizzato nel miglior modo possibile Conversano cerebra invece sante simone architetto e studioso della storia del territorio presentato il programma dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita dell'illustre con cittadino due mostre ben due iniziative di questo tipo ma non sono le uniche una dedicata al lavoro di sante simone e quindi al prestigioso lavoro che ha svolto nella nostra nella nostra città è un'altra invece dedicata a quello che era il contesto storico poi ci sono tante altre iniziative come la formazione di giovani che poi diventeranno guida narranti 200 anni dalla nascita di sante simone architetto e studioso della storia del territorio del barese e la cui opera tecnica ed ingegno lega il centro di Conversano a quelli vicini di Castellana Grotte Noci e Turi portano alla sua firma infatti importanti edifici privati e strutture pubbliche della stessa Conversano oltre a numerosi restauri conservativi e così anche il bicentenario diventa occasione per celebrare le comunità che si intrecciano Palazzo Sgobba della città di Castellana sito in Corsa Italia e la biblioteca comunale sono stati progettati da Santa e Simone quindi abbiamo queste due opere che ci uniscono e che tra l'altro cercheremo di rendere anche fruibili e testimonianza delle cose che abbiamo anche a Turi oltre a quelli di Conversano come il campanile di San Giovanni insomma l'architetto di una grandiosità intellettiva molto ampia la città metropolitana partecipa attraverso la sua pinacoteca la pinacoteca Corrado Giacuinto perché sarà realizzata una mostra che mostrerà attraverso le opere di proprietà del museo metropolitano i paesaggi della terra di Bari nel periodo storico in cui viveva l'architetto Il nostro telegiornale termina qui grazie per averci scelto e un buon proseguimento Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo A presto a presto A presto a presto a presto a presto Grazie.